buongiorno day after quarto posto un punto dal terzo che non è terzo quindi un punto dal terzo che non è il terzo posto però quattro giornate per provare a passare oltre per provare provare ripeto provare a togliersi una soddisfazione piccola effimera tutto quello che volete da parte della juve di scavalcare il napoli che a dicembre aveva 14 punti di vantaggio ci riuscirà la juve non lo so non ci riuscirà ovviamente lo vedremo detto questo comunque si è trattato di una rincorsa significativa che però e qui ricavo una mia prima impressione a freddo che va più o meno a confermare quella che ho avuto a caldo ieri non sembra interessare così tanto cioè nel senso io non ho avuto la sensazione di quel fuoco ho avuto la certezza che non c'era quel fuoco ieri nel voler battere il sassuolo per provare a completare questa scalata con un sorpasso è vero che il terzo posto e il quarto così come il secondo danno diritto alla stessa cosa cioè accedere alla champions e che la vera soddisfazione se la prende chi vince lo scudetto per carità però questo atteggiamento onestamente ieri mi ha lasciato un po perplesso insomma questo atteggiamento dico della juve che poi nelle dichiarazioni successive alla partita sia stato trasformato in pazienza equilibrio non solo da parte di allegri ma anche da parte di chiellini che ho intervistato personalmente quello fa parte ovviamente delle interpretazioni noi dall'esterno ricaviamo una impressione dall'interno viene spiegato in una certa maniera quindi può anche essere come dire condivisibile visto che viene spiegata così questa interpretazione cioè che si sia trattato di come dire strategia di attesa di voler cercare di cogliere l'occasione al momento propizio questo apre il fronte ovviamente delle solite discussioni sull'atteggiamento che la juve dovrebbe avere in campo e che non sempre mostra o che quando lo ha mostrato non ha raccolto nulla invece quando non lo mostra raccoglie di più ma questa è una sottolineatura puramente statistica insomma no perché anche questo apre sicuramente a tante discussioni a me onestamente non è piaciuta la juve di ieri avrei preferito una squadra più propensa ad attaccare visto che gli elementi per attaccare c'erano però bisogna considerare anche il fatto che sono in tanti che stanno tirando la carretta non vuole essere un alibi lo ripeto però è un dato di fatto e quindi pretendere magari lo stesso ritmo da tutti di partita in partita all'interno della stessa partita risulta anche francamente difficile specialmente in quel settore lì del centrocampo che dovrebbe un po' trainare la situazione. Il mio commento di ieri su Dybala era una sottolineatura di un dato di fatto cioè ieri mi è sembrato completamente fuori dalla juve ma non gliene faccio una colpa è stato messo fuori dalla juve poi ha il dovere di tante belle parole no del professionista di impegnarsi fino in fondo eccetera a un certo punto si è acceso ha fatto Dybala ha fatto gol però voi sapete che considero sempre anche l'aspetto umano e la questione uomo la questione uomo è fuori è un ex sta giocando da ex perché è stato messo a fare l'ex cioè è stato messo le condizioni di essere ex mi si dice ma poteva accettare la prima proposta no ma l'aveva accettata nel senso che un accordo era stato trovato poi sono cambiate le carte in tavola e quindi questa è la naturale conseguenza voglio dire un epilogo così io me lo potevo anche aspettare poi è chiaro che lo metti in campo da lui cerchi e chiedi determinate garanzie di gioco però è anche vero che visto che anche Allegri è stato d'accordo sulla cessione Dybala lo ha detto lui stesso le decisioni le prendiamo tutte assieme allora anche Allegri sa quello che gli può dare Dybala quando sta bene mentalmente fisicamente sa quello che gli può dare Dybala quando sta bene fisicamente ma evidentemente non dal punto di vista mentale perché è chiaro che non può sentirsi così coinvolto no ma chiunque di noi farebbe così nel proprio lavoro o se giocasse a pallone è normale è l'aspetto umano che salta fuori allora parliamo un pochino di mercato perché ieri di fianco a me intanto che facevo le interviste post partita c'era l'amministratore delegato del sassuolo carnevali che conosco da diversi anni insomma e so come si muove e so qual è la la tattica è quella di negare sempre tutto insomma non è venuto a parlare con noi di mediaset era previsto che parlasse solamente il rai era lì di fianco a noi io naturalmente ho ascoltato e ha escluso che ci siano stati incontri per raspadori quando un amministratore delegato esperto e importante come carnevali dice questo bisogna pensare chiaramente il contrario perché gli incontri ci sono stati ne stanno parlando io gli ero osservato bene i movimenti di questo ragazzo ripeto non è un Paolo Dybala non lo è perché tecnicamente neanche tecnicamente lo è un Paolo Dybala è però un trequartista avanzato che si sa inserire molto bene la combinazione del gol con Berardi peraltro è molto bella l'esecuzione anche un po dovuta ad una mezzerrore di piazzamento di Cesni che prende il pallone sul primo non prende il pallone sul suo primo palo però detto questo sarebbe un bel acquisto per la Juventus ho detto sarebbe non dico sarà perché non si può dire sarà però sarebbe un bel acquisto per la Juventus così come lo sarebbe anche Frattesi che invece ho intervistato la quale personalmente ho chiesto dell'interessamento della Juve naturalmente la risposta è di circostanza ma al tempo stesso insomma si capiva che voleva dire molto di più gli fa piacere l'interessamento della Juve come quello delle grandi squadre generali hanno imparato naturalmente a deviare un po' a mischiare a fare i mischioni però secondo me ragazzi l'impressione che ho ricavato io è che muore dalla voglia di andare alla Juventus e ha detto che non c'è un momento in cui ci si sente pronti per il grande salto gliel'ho chiesto esplicitamente lui ha detto ci si rende conto quando questo salto si fa vediamo cosa succederà quest'estate io farò di tutto per mettermi in vetrina eccetera 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 l'importante è lavorare insomma c'è una gran voglia poi non so se sarà la Juve se sarà un'altra squadra adesso mi risulta che sia nettamente in vantaggio la Juve sull'Inter perché il competitor è l'Inter ma il vero competitor poi è Carnevali e il Sassuolo che non è che possa fare il supermercato per cui entri compri e te ne vai insomma a parte che entri compri alle loro condizioni e poi te ne vai eventualmente però bisognerà anche vedere perché c'è Raspadori, c'è Frattesi, c'è Berardi insomma ce n'è da pescare in quella squadra lì però se la Juve riesce a portarsi a casa Raspadori e Berardi ragazzi fa un lavoro veramente egregio italiani, giovani e mi sono sembrati veramente all'altezza della situazione tra l'altro è vero, visto proprio così da vicino Frattesi e Marchisio sembrano gemelli separati dalla nascita si assomigliano tantissimo ma tantissimo, vabbè questa è una notazione puramente di colore e poi c'è il discorso Chiellini, vediamo cosa farà, lui ha detto che è molto sereno anche lì è venuto a farsi intervistare, molto sereno, molto tranquillo la sensazione che ragazzi andrà via ecco la sensazione che ho ricavato però è giusto che lui possa scegliere dall'alto della sua posizione dalla sua esperienza e di quello che ha dato per questa squadra, per questa società mi sono tenuto l'argomento tifo per questa sera, ok? quindi stasera video dedicato in gran parte alla necessità umana che anche la Juventus abbia una curva in casa più o meno come quella che si è vista a Sassuolo, a Reggio Emilia, più o meno perché a Reggio Emilia non poteva essere tutta la curva ma vabbè, insomma, ne parliamo stasera ciao ragazzi, iscrivetevi al canale